Partiamo per Monte San Carlo D'accordo per te potrombani mi liezie a te le scopi E' bello, bello Bello, bello Bello Da, bello Che bello, bello D'accordo Sì, c'è questo 2 gradi, non si è andato? Où? Che è buio a questa? Porch. Mamma mia, mi sono in franza. Dove, dove ci ne hai dato in franza? Dove c'erano loro prima? Dove abbiamo chiesto. Sì, siamo venuti su da qua e siamo scesi. Guarda, questo è un blocco. Guarda, c'entro là. Che canè, che canè? Vabbè, dai, un buon barbo. Un barbocino di merda. No, non è un barbocino. Cosa fa? Qua c'è la Porsche, se non sbaglio. La macchina per fare le foto. Dove c'erano i negozi del Porsche. Ah, la concessionaria? No, non era qua. No. Tutti uguali, se cazzo di strada. Buonasera Bangladesh. Dio. Dio. Dimi. Se mi vuole che c'è questo, non direi che cosa. Buona, adesso parcheggio e scendiamo. Te l'ho già detto. No. Buonasera. Buonasera. Ma non puoi parcheggiare? L'unica cosa che ci ha portato a mangiare è dove sono tutte le yacht. Siamo arrivati, ci hanno aperto lo sportello, siamo scesi e siamo andati a mangiare. e di fronte avevamo una grotta illuminata con tutte le yacht. Le yacht. Le yacht. Le yacht. Le yacht. Le yacht. Le yacht è rinforzato. E c'è dappertutto. È la che passa, dove ci fa vedere la città? Sono stati attenti, le ho dititte. eh si io lo stavo dicendo in francese ah capisco a 15 fuori Lamborghini ho visto c'è la polizia lui devo sparcheggiare qua oee ooo farà baguette non si capisce ma qua l'ho fatto a piedi io con Nicolai sicuro ma come ho il cogo non sono tappelli tappelli in un barco proprio vicino a piazza Diego devi vederlo vederlo a piano ehi 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 la macchina abbiamo mi ha rovinato il video scelgo qui ci diamo in un'altra vi vi Grazie a tutti.